Musica Disagio giovanile parte da Fano il grido d'allarme lanciato da un gruppo di genitori L'avvocato Merli si appella alle istituzioni investite sui servizi e sulla cura psicofisica dei nostri ragazzi A Recanati un'autopiomba contro un'inferriata e si rovescia 27 anni trasportato in eleambulanza al torrette di Ancona A fuoco il rimorchio di un camion che trasportava tessuti paura a Senigallia sull'autostrada A14 Il sottopasso del Lido allagato di nuovo la Lega Fano torna all'attacco Dopo i ritardi della vasca manca ancora l'allaccio elettrico per mettere in moto le pompe E un altro disastro firmato Tonelli Nelle Marche scendono in campo 84 specialisti per potenziare le cure domiciliari contro il Covid-19 L'obiettivo è evitare i ricoveri in ospedale Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Questa sera apriamo il nostro telegiornale con l'intervista che abbiamo realizzato all'avvocato Emanuela Merli Che insieme a un gruppo di genitori lancia l'allarme sul disagio giovanile provocato dalla pandemia Non è più tempo di restare in silenzio Ha detto, dobbiamo reagire affinché i nostri figli possano tornare a vivere la spensieratezza dei loro anni L'assenza di attività scolassiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza forzata in casa Di migliaia di ragazzi e ragazze con ripercussioni ancora difficilmente quantificabili Vivere l'infanzia o l'adolescenza con lo spettro di una pandemia Essere stromessi di colpo dalla vita sociale Ritrovarsi chiusi nelle abitazioni davanti a un pc o a un telefono Sono esperienze che incidono profondamente sullo sviluppo psicofisico dei più giovani Anche l'abuso di alcol, l'isolamento sociale e l'autolesionismo Sono diventate delle dinamiche molto frequenti In modi e termini che superano la soglia di allerta Sono circa 200.000 i dispersi della DAD Cioè coloro che a causa delle assenze prolungate Rischiano di alimentare il fenomeno dell'abbandono scolastico Numeri importanti che ci sono stati riportati da Emanuela Merli Avvocato di Castelplagno in provincia di Ancona Che insieme ad un gruppo di genitori della vallata del Metauro Lancia un grido d'allarme Noi genitori ci abbiamo provato Ma in realtà non è stato fatto abbastanza Forse il giudizio più pesante arriva proprio dai nostri ragazzi Perché da un sondaggio fatto poco tempo fa Il 65% dei nostri giovani ritiene di pagare in prima persona L'incapacità di noi adulti di gestire la pandemia Che cosa possono fare in concreto le istituzioni? Noi abbiamo bisogno sicuramente di un aiuto Da parte dell'istituzione e dei nostri politici Perché si rendano conto che i nostri ragazzi hanno bisogno di servizi e di supporti Anche di cure per la loro salute fisica e psicosociale Anche perché devono poter ritornare a vivere la bellezza dei loro anni Senza tante limitazioni che effettivamente stanno incidendo in modo drammatico sul loro vissuto Avevamo fiducia in questa estate che doveva segnare la ripresa e la fine di un incubo Ha proseguito l'avvocato e invece abbiamo aumentato il carico L'obbligo vaccinale più o meno velato in realtà si riverbera su quella che è la loro vita quotidiana In possibilità per esempio per chi decide di non vaccinarsi di partecipare alle attività sportive Perché molte società poi richiedono per l'accesso alle attività il Green Pass Non poter stare con gli amici a mangiare una pizzetta O anche svolgere delle attività extrascolastiche che vengono organizzate Sono sicuramente delle limitazioni che vanno a penalizzare in modo assolutamente ingiustificato i nostri ragazzi A una generazione già profondamente colpita, si legge in una nota dell'avvocato Abbiamo permesso che si aggiungesse, secondo un diktat sanitario freddo e asettico Un ricatto per poter paventare una normalità che tale non può considerarsi Di fatto abbiamo regalato loro una normalità a tempo come la durata del lascia passare E' ora di dire basta, aggiunto Merli E chiediamo gran voce ai nostri politici e alle istituzioni di investire a livello pubblico e privato Sui servizi e sui programmi di prevenzione, promozione, cura della salute fisica e psicosociale di bambini e ragazzi Se falleremo nel nostro intento, ha concluso Emanuela, avremo perso ogni scommessa per il nostro futuro Come mai avete deciso di partire proprio dalla città di Fano? Beh, abbiamo scelto Fano non a caso perché è una città bellissima ma è anche la città dei bambini Quindi da qui vogliamo lanciare il nostro appello come genitori Perché tanti altri genitori entrino a far parte del nostro gruppo e ci aiutino in quello che è il nostro intento Cioè la salute dei nostri figli che penso che sia una sfida per il nostro futuro che interessa a tutti quanti Nelle Marche nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso legato al Covid Da perdere la vita è stato un pesarese di 64 anni Invece i nuovi positivi sono 83, di cui 27 in provincia di Pesero e Urbino Mentre negli ospedali i ricoveri sono 78, un in più rispetto a ieri Cala leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva Mentre rimane invariato quello dei degenti in semi-intensiva Un'auto piomba contro un'inferriata e si rovescia È successo oggi poco prima di mezzogiorno in Contrada Duomo nel comune di Recanati Il conducente per cause ancora in fase di accertamento Ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro l'inferriata di un'abitazione La vettura si è capovolta ed è rimasta in bilico su un muretto Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di macerata Che hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del veicolo Il più grave, un ragazzo di 27 anni, è stato trasportato in eleambulanza al Torretti di Ancona Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio anche lungo l'autostrada A14 Tra i caselli di Senigallia e Monte Marciano nella corsia a sud Per l'incendio di un rimorchio che trasportava tessuti La squadra di Senigallia in collaborazione con i colleghi della centrale di Ancona È intervenuta con tre autobotti per spegnere con del liquido schiumogeno Le fiamme che avevano avvolto completamente il rimorchio dell'auto articolato I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo Sul posto anche la polizia autostradale È bastata un po' di pioggia ieri sera per far allagare di nuovo il sottopasso dell'Ido a Fano La Lega punta il dito contro l'assessore ai lavori pubblici E denuncia l'assenza dell'allaccio elettrico che consentirebbe alle pompe di evitare quanto accaduto L'assessore che fa acqua da tutte le parti Un altro disastro firmato Tonelli Con questa affermazione la Lega Fano torna all'attacco sui lavori della vasca di raccolta dell'acqua piovana In piazza Lamedola Due anni di ritardo ricorda la Lega Costi aumentati del 44% E il sottopasso dell'Ido è allagato per l'ennesima volta Il problema di quel progetto è che è nato male e che sta finendo praticamente peggio Pensate che ad oggi dopo circa mille giorni di lavoro per realizzare una vasca per il rilancio dell'acqua E circa dopo 700 giorni di ritardo sulla consegna dei lavori Oggi ci accorgiamo per l'ennesima volta che l'amministrazione comunale e l'assessorato dei lavori pubblici Si è dimenticato di chiedere all'Enel l'allaccio per il funzionamento delle pompe Sappiamo bene che abbiamo bisogno di energia elettrica per far muovere delle pompe di sollevamento acqua E questo ritardo ha causato quello che abbiamo visto poi succedere ieri sera Come è successo tante altre volte Perché l'impianto ancora non è in funzione Ed ora presenterete un'interrogazione in Consiglio Comunale? Sì, domani mattina verrà protocollata una interrogazione Per chiedere all'assessore Tonelli quali saranno i veri tempi di allaccio di quell'impianto Per fare in modo che tutto il sistema funzioni Non è possibile che nel 2021 un impianto del genere ancora non sia realizzato E che il sottopasso del Lido continui ad allagarsi ad ogni acquazione stagionale Quindi chiederemo quando verrà realizzata la cabina elettrica che permetterà il suo funzionamento E finalmente chiederemo anche a lei i motivi per i quali questo non è stato fatto prima Un incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16 lungo l'A14 Tra Senigallia e Fano in direzione nord Per cause al vaglio della polizia stradale un'auto con a bordo due persone si è capottate Entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118 Ma fondamentale è stata la tempestività del conducente di un tir Che appena visto il sinistro ha intraversato il mezzo pesante Per fare da scudo all'auto con all'interno i due feriti E un altro incidente è avvenuto questa mattina alle 7.45 in via Roma a Fano Secondo i rilievi un'auto modello Audi A2 condotta da un fanese di 48 anni Stava uscendo dal distributoresso con l'intento di svoltare a sinistra Nel compiere la manovra ha urtato un motorino guidato da una 17enne fanese Che probabilmente in quel momento stava superando la fila di veicoli in lento movimento per recarsi a scuola A seguito dell'urto la ragazza è caduta a terra riportando lesioni lievi ed è stata trasportata al pronto soccorso di Fano L'incidente ha creato disagi e rallentamenti al traffico particolarmente intenso in quell'orario sul posto la polizia locale E dopo il sinistro c'è arrivato un messaggio da un nostro telespettatore che ha commentato L'ennesimo incidente non ci vorrebbe tanto a mettere l'obbligo di uscita in direzione mare verso la rotatoria Sia nel piazzale del distributore di carburante che nel parcheggio delle poste Alla mattina è molto pericoloso ha spiegato perché tanti ragazzini vanno a scuola con bici e moto Le auto spesso tagliano la strada lo stesso vale per via Togliatti Ancora sanità perché nelle Marche scendono in campo 84 medici specialisti provenienti dalle aziende ospedaliere e aree vaste Per le cure domiciliari e malatticovi del provvedimento uno dei primi in Italia è stato approvato oggi dalla Giunta In questo modo ha detto il Presidente Acquaroli si evita l'ospedalizzazione e i nostri nosocomi potranno tornare ad occuparsi di tutte le altre patologie Il medico di medicina generale si occupa dell'anannesi, l'USCA interviene a domicilio e in base alle patologie, sintomi e fase della malattia viene coinvolto uno specialista per la terapia da adottare Tra loro ci sono cardiologi, pediatri, infettivologi e oncologi. Il progetto verrà sperimentato per almeno un mese Sono diretti ad Ancona i furgoni di poste italiane per la consegna di oltre 10.000 dosi del vaccino Moderna Nella giornata di domani alcuni mezzi in collaborazione con l'esercito raggiungeranno l'IRCA, il presidio ospedaliero di ricerca A Monbaroccio invece da domani riapre il punto prelievi ematico nella RSA Bricciotti Il servizio svolge l'attività nel primo e nel terzo mercoledì di ogni mese dalle 7.30 alle 8.30 L'accesso è su prenotazione e per tutti i dettagli potete consultare il nostro sito occhioallanotizia.it E oggi è la ventottesima giornata mondiale dell'Alzheimer e per l'occasione è stato allestito uno stand in piazza 20 Settembre a Fano con l'obiettivo di sostenere, accogliere e informare sul tema la cittadinanza. Servizio di Letizia Marchionni Accompagnare le persone malate ma anche le loro famiglie tenendole per mano e non lasciandole sole nell'affrontare la patologia Si celebra oggi la ventottesima giornata mondiale dell'Alzheimer e per l'occasione l'AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer ha allestito a Fano in piazza 20 Settembre una postazione di incontro e accoglienza, informazione e consulenza gratuita rimasta attiva in mattinata dalle ore 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.30 con soci, familiari, professionisti del settore per accogliere ed ascoltare chiunque sentisse il bisogno di conoscere più da vicino questo tema e per trovare sostegno e supporto. Siamo qui per dire che noi ci siamo per questa malattia e diamo assistenza ai familiari abbiamo all'interno dell'associazione figure professionali, gestiremo un auto mutuo aiuto cerchiamo di non abbandonare queste famiglie che escono o ancora vivono il momento del Covid il malato dell'Alzheimer nel momento del Covid è quello che ha sofferto più di tutti e ancora ne ha le conseguenze noi ci siamo, abbiamo una nuova sede nel palazzo Gabuccini in via Rainerino e siamo disponibili con la nostra presenza ci siamo per il sostegno delle famiglie che vivono questa sofferenza giorno dopo giorno chiusi nelle quattro mura oggi qui abbiamo a disposizione dei libri che sono gratuiti dove si parla di questa malattia come nasce, come si evolve e perché abbiamo delle t-shirt che diamo anche come sostegno per l'associazione abbiamo delle noci che è il simbolo della memoria di quello che ne trae beneficio mangiare delle noci e siamo qui perché questa malattia è sempre poco parlata, poco discussa si ne tiene poco conto cioè i numeri crescono, crescono giorno dopo giorno e nessuno, nessuno sa come affrontare questa situazione e nessuno è preparato a questa, tra virgolette, pandemia una patologia all'Alzheimer che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo in Italia si calcola che i nuovi malati di demenza siano circa 150 mila all'anno e che il 50% di questi siano affetti da Alzheimer in totale attualmente sono circa 600 mila il percorso di cura è difficilissimo e non coinvolge solo la persona affetta dalla malattia ma anche il familiare caregiver che la segue io assisto a mamma dall'inizio di questa malattia a me fa molto dispiacere che già un malato viene considerato un invisibile il familiare è un malato sotterraneo perché noi lottiamo e cerchiamo di sostenerli giorno dopo giorno quindi sono qui oggi con l'associazione per dire che noi ci siamo e non per niente questa scritta dice non dimenticare chi dimentica e questo è il principio nostro di associazione Cambiamo argomento verrà chiuso il Pozzo Burano situato nel comune di Cagli in provincia di Pesero Urbino l'ha annunciato l'assessore regionale Stefano Guzzi che ha partecipato alla riunione del Comitato Provinciale di Protezione Civile la decisione è stata assunta visto lo stato di parziale riempimento dei bacini idrici che contribuiscono ad alimentare il sistema dopo le ultime precipitazioni rimane aperto il Pozzo Sant'Anna Fossombrone che continua a derogare 150 litri al secondo numerosi cambi al vertice sono avvenuti per la Guardia di Finanza di Pesero in concomitanza con il nuovo assetto organizzativo il Maggiore Eleonora Ossola lascia il comando del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria l'ufficiale andrà a ricoprire un prestigioso incarico a Venezia al suo posto subentra il Tenente Colonnello Tommaso Commissione anche il Capitano Nicola Piccolo lascia il comando della compagnia sarà sostituito dal Maggiore Antonio Manselli a cui viene affidato il comando del gruppo di Pesero che con il nuovo assetto ha assorbito la locale compagnia e adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni che ci portano nel quartiere Poderino a Fano vi trasmetto questo video ci ha scritto un nostro reporter per mostrare le condizioni in cui si trova via tagliamento incluse le parti della strada in cui si trova il condominio Parco delle Rose da notare ha proseguito la fila di paletti recentemente posti di fianco al vicino Parco Pubblico uno di questi è stato fissato proprio di fronte al cancello d'ingresso bloccando così l'accesso del mezzo che periodicamente vi entra per la sua pulizia e da Fano andiamo a Cogli al Metauro dove si è concluso con successo l'evento che celebra la Caciotta d'Urbino DOP e la Pera Angelica a servizio di Filippo Pucci L'esperienza virtuosa di Food Brand Marche l'associazione di produttori dell'agroalimentare marchigiano tra i primi esempi italiani di compagine regionale è stata al centro del talk show di sabato scorso alla Villa del Bali a Cogli al Metauro l'appuntamento che si è svolto nell'ambito della festa al contadino non far sapere è promosso da Gianluigi Draghi presidente del consorzio di tutela della Caciotta d'Urbino DOP e all'incontro era presente anche il vicepresidente della regione Marche Mirko Carloni cioè stiamo cercando di creare quella massa critica che identifichi dei prodotti di eccellenza o comunque una produzione di eccellenza tale per cui le marche vengono riconosciute a livello globale mentre in passato si cercava di valorizzare le diversificazioni, i prodotti e i territori oggi è il momento della sintesi ognuno ha una grande eccellenza ma se non la mettiamo tutti insieme in un contenitore che il mercato riconosce rischia di non essere forte Food Brand Marche è un'associazione di produttori dell'agroalimentare nata per valorizzare e promuovere in maniera integrata l'inogastronomia, il turismo e la cultura del nostro territorio Le imprese agricole coinvolte sono circa 3.500 per un fatturato di 850 milioni di euro partendo da questo modello virtuoso che si candida a distretto alimentare di qualità delle marche si cercherà dunque di avanzare alcune proposte verso una strategia che unisce qualità e sostenibilità C'è la consapevolezza che in questo momento questa economia dell'agroalimentare nelle marche sta diventando molto forte assolutamente intorno al 14-15% del PIB delle marche che oggi sta crescendo tantissimo dunque ci sono tanti investimenti e sarà anche importante questa regione che è avvocata sta viaggiando verso una vocazione turistica sarà molto importante l'aspetto dell'agroalimentare dunque dare queste cose ma è una regione fatta di eccellenze è una regione dove abbiamo delle cose estremamente particolari non di grande quantità ma di grandissima qualità dunque questo è un po' quello che noi stiamo cercando di portare avanti insieme a questi discorsi nuovi che stiamo facendo di certificare tutto quanto ciò che oggi è la sostenibilità dunque la parte dell'ambiente lasciare un mondo migliore ai nostri figli la parte del sociale dunque i nostri dipendenti il welfare, tutto quanto e la parte del business perché un'azienda deve fare comunque business per investire, per avere un futuro e sono questi tre settori tutto questo stiamo cercando di fare un percorso per certificarlo cioè effettivamente dare delle garanzie al consumatore su quello che stiamo facendo ecco la nostra associazione in un percorso così difficile sta aggregando e da guida in tutti questi discorsi dunque non solo promozione non solo E ma anche certificare la nostra sostenibilità Il sisma non ferma la cultura nei piccoli borghi ci spostiamo a Muccia in provincia di Macerata dove si sono svolte tre giornate dedicate a spettacoli teatrali interattivi nell'ambito del festival Marche Stori promosso dalla regione nello specifico questo progetto volto a valorizzare i territori poco conosciuti e duramente colpiti dal terremoto oppure che non fanno parte delle mete turistiche convenzionali è stato ideato da quattro fanesi che dopo un corso di marketing organizzato dal comune di Fano hanno dato vita a Marche Team l'evento che hanno organizzato a Muccia denominato Il Beato Illuminato partendo dal rapporto di San Francesco con la natura ha posto l'attenzione sull'importanza dell'equilibrio senza tempo tra uomo e natura quale garanzia della reciproca sostenibilità laboratori, letture per bambini e presentazioni di libri standenogastronomici e di manifattura hanno fatto da cornicia le esibizioni teatrali caratterizzate da indovinelli e quesiti che hanno reso il pubblico parte attiva dello spettacolo tramite una web app creata appositamente per consentire anche il distanziamento sociale tra gli spettatori è partita da Gandia la nuova strategia internazionale del comune di Fano nei giorni scorsi una delegazione cittadina ha fatto tappa nella città gemellata della Spagna promuovere il brand di Fano nel mercato internazionale per allacciare nuovi rapporti economici è questo uno degli obiettivi che ha spinto una delegazione fanese guidata dall'assessore al turismo Etiel Lucarelli ad intraprendere un viaggio a Gandia insieme a Massimiliano Barbadoro presidente di Amici Senza Frontiere due rappresentanti di Confesercenti e due chef l'assessore ha incontrato la stampa spagnola e importanti operatori per continuare il proficuo rapporto di scambio turistico con la città gemellata una visita istituzionale molto importante un nuovo progetto che nasce e toccherà tutte le città gemellate abbiamo fatto un incontro con 10 tour operator della città di Gandia del territorio di Valencia e di Madrid infatti c'era anche un importante tourist planner di Madrid proprio per presentare la nostra destinazione turistica in base anche al nuovo piano strategico e alla nuova immagine che abbiamo voluto dare alla nostra città a seguito della presentazione abbiamo deciso proprio con i tour operator di fare qua un educational quindi di fargli venire per vedere le bellezze della nostra città in modo che possano iniziare a vendere la nostra destinazione turistica ai cittadini spagnoli non solo turismo ma anche valorizzazione economica infatti con alcune associazioni di categoria c'è stato un confronto per capire quali altri settori possono essere al centro di una connessione con Fano e creare così un binomio vincente prossimamente ha proseguito l'assessore saremo noi ad ospitare le istituzioni e gli operatori di Gandia insieme a confesercenti insieme agli chef del brodetto in questo caso il concorso era iscritto il ristorante ideale abbiamo partecipato al 46esimo concorso della Fideuade Gandia piatto per loro molto tradizionale come lo è per noi il nostro brodetto proprio per promuovere questa grande manifestazione far sì che la nostra città si conosca meglio e incentivare i rapporti di gemellaggio internazionale quindi un'ottima visita istituzionale che è stata veramente molto concreta e che sono sicuro porterà molti frutti subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi andrà in onda uno speciale televisivo dedicato alla consegna dei bonus bebè ai figli dei soci dei dipendenti della banca di credito cooperativo di Fanno l'informazione invece torna domani mattina alle 7 con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri buona serata a tutti Grazie a tutti